Ma andiamo avanti con i nostri pacchi vintage perché ho altre cose da impacchettare, in particolar modo ho venduto lui che è buonissimo, bellissimo e meraviglioso, purtroppo non lo utilizzo mai perché nel corso del tempo capisco che questo è il mio profumo, è il profumo che comprerò sempre una volta terminato, quindi purtroppo a discapito degli altri che non vengono utilizzati ho deciso di venderli. Purtroppo ho terminato gli scatoloni piccolini per cui devo arrangiarmi con questi giganti però ci metterò un sacco di protezioni, dato che ho anche questo utilizzerò anche questa. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare insieme, ovviamente step numero uno è mettere il profumino all'interno della sua confezione originale, tra l'altro il fiocchettino è troppo bello, ovviamente chiudiamo il tutto. Come primo step protettivo lo vado a racchiudere in questa pluriball rosa, ok una volta scocciato è più o meno così, poi dell'altra carta, il fagottino ora si presenta in questo modo, credo di non metterci altra carta protettiva, almeno non intorno. Come vi accennavo dicevo di volerlo mettere qui dentro e qui dentro lo vado a mettere. Ecco qui e qui dentro metterò anche gli omaggini, a questa ragazza metto anche una di queste candele twist meravigliose perché ha speso un pochino quindi ora la incarto. Ok mettiamo la candelina, dalla ciotola degli omaggi una goleador immancabile, qualche sticker autunnale, cioccolatino con il teschio. E dai, un gran bel pacchettino. Ora devo vedere e capire come inserirlo in sicurezza all'interno dello scatolone. Direi che è perfetto perché ho trovato anche queste cose in gomma piuma che fanno da cuscinetti, quindi ora chiudo tutto e metto l'etichetta. Pacco pronto, etichetta messa, spero ti piaccia. Pacco pronto, etichetta messa, spero ti piaccia.